Ciao a tutti ragazzi, qui è la vostra 1095 Oggi vi farò vedere come uscire dalla mappa Aftermath Allora, innanzitutto è come uscire da Green Voi dovete mettere nelle parti personalizzate E andare su più popolari E caricare o CTF glitch Cioè, cattura la bandiera quindi dovrà essere Oppure, come si chiama, teleporting Allora, dovete andare qua, in questa stanza E praticamente per fare questo ciclo dovete essere nel punto più alto della mappa Ok, a questo punto dovete cambiare squadra Mettere mercenari Poi guardare verso il basso e risustare Allora, come vedete sono sopra Cioè, sono sopra il tetto, diciamo E so che io non ho ancora ben capito come uscire poi Perché si può andare qua, sì, ma poi non è che fate grandi cose E quindi, ragazzi, il video è piaciuto Vi provo di lasciare un mi piace Se volete che esca da altre mappe, ditemelo E mi raccomando, ottenetevi una granata, un'implicazione E dovete mettere forza rientro Nelle opzioni di rientro dovete mettere forza rientro o no In modo che voi potete tranquillamente guardare verso il basso E fare questa cosa Qui, come vedete, sono fuori, fuori qua Lì c'è la bandiera, anche lì Quindi, ciao a tutti e alla prossima uscita Grazie a tutti